Grazie, noi parliamo del Papa, domenica prossima sarà la giornata dei poveri e dunque Francesco ha fatto installare a Piazza San Pietro un centro medico per bisognosi e senza tetto. Ignazio Ingrao. La chiesa, un ospedale da campo, accanto a chi soffre. Appena eletto Francesco ha coniato questa espressione per parlare di una chiesa che cura le ferite. Ora non è solo una metafora, ambulatori temporanei per i poveri in Piazza San Pietro, li ha voluti il Pontefice. Sono persone che vivono per strada, non solo senza fissa dimora, persone che non si possono permettere di pagare un medico, non hanno il medico di base. I pazienti sono già numerosi, un gruppo di medici, volontari e di infermieri li accoglie. Un colloquio iniziale, quindi le visite e se occorre un check-up completo. Voglio fare tutte le cose di qua, tutte le analisi per salute, tutte le persone sono brave. Domenica prossima sarà la giornata mondiale dei poveri, istituita da Francesco al termine del Giubileo. Il Papa celebrerà la messa nella Basilica Vaticana. In prima fila ci saranno senza casa e bisognosi, che poi pranzeranno con lui.